Un rogo che ha richiesto l'impiego di diverse squadre dei vigili del fuoco, quello divampato alle porte di Ferrazzano. Un massiccio di spiegamento di forze è necessario impedire che le fiamme, con la complicità del vento che soffiava proprio in quella direzione, raggiungessero il centro cittadino. Il rogo infatti si è sviluppato nel bosco sottostante l'abitato e l'allarme è scattato a seguito delle decine di chiamate arrivate al centralino del 115, da cittadini allarmati perché le colonne di fumo avevano ormai già raggiunto le loro case. 20 vigili del fuoco del comando di Campobasso, con un'autopompa, due autobotti, un autocarro con modulo incendio boschivo e due moduli antincendi e la squadra antincendi boschivi operante in basso Molise. A supporto delle squadre di terra, gli uomini della protezione civile, con l'ausilio di un'unità antincendio aereo. Tutti impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica che hanno richiesto all'incirca tre ore. Operazioni divenute agevoli soltanto con il cessare dell'azione del vento. Le conseguenze avrebbero potuto essere serie, considerata la prossimità al paese. Sul posto si sono decati anche il sindaco e i carabinieri di Mirabello Sannitico. Scongiurata la necessità di evacuare i residenti, ora non resta che accertare le cause del rogo, al momento ancora ignote.